segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te esco paolo magi che entra in questa storia è un poliziotto eccolo qua il nome compare per la prima volta il 5 novembre del 92 quattro mesi dopo l'attentato c'è un verbale i magistrati cosa fanno aprono in teoria la faccia aperta qualcuno mi sembra la borsa per esaminare il contenuto e tra gli oggetti trovano anche un bigliettino con su scritto un nome particolare eccolo qua questo è l'originale ma emerge un particolare di questo verbale detti oggetti erano contenuti in un sacchetto di plastica quello che interessa a noi è rinvenuto sul luogo della strage assistente magi francesco quindi non rinvenuta rinvenuto come se questo sacchetto di plastica che conteneva tutti questi gesti fosse stato rinvenuto da questo uomo cosa fa non aveva mai fatto una relazione di servizio questo signore quando i magistrati gliela chiedono beh insomma dico ma com'è possibile che lei non faccia una relazione a luglio di questa storia chi gliela fa fare l'uomo che ha depistato tutto arnaldo la barbera per i servizi segreti era un nome in codice rutilius per i magistrati è uno dei fautori del depistaggio leggiamo la relazione cosa dice io sottoscritto francesco paolo maggi c'è un'esplosione arrivo lì attenti a questo passaggio un vigile del fuoco stava spegnendo detta auto che era l'auto del magistrato prelevava lo stesso vigile del fuoco una borsa in pelle di color marrone bruciata imparzialmente la consegnava a lui a maggi al sottoscritto il quale informava il dottor fassari ancora oggi funzionario della polizia di trasportarla presso l'ufficio del dirigente della squadra mobile arnaldo la barbera allora che cosa dice che c'era quando l'ha portato maggi in questo ufficio presente un altro personaggio chi era l'agente di franco eccolo qui quindi l'agente di franco avrebbe dovuto vedere perché io dico l'ho portata l'agente di franco dice esattamente l'opposto di franco dice che non l'ha mai visto interrogato dagli uomini della dia come vedete abbiamo trovato il l'elemento dice non ricordo di avere mai visto la borsa di borsellino non ho alcun ricordo della presenza di maggi che io conoscevo dice e comunque in ogni caso se mi avesse detto che stava depositando la borsa appartenente al dottor borsellino nell'ufficio di la barbera per il mio modo superandi nostro della squadra avremmo certamente custodita sotto chiave in armadio non averla buttata su un divano così queste sono le cose incredibili tutti dicono l'incontrario di tutto ecco perché io dico che è stato tradito anche da morto borsellino da uomini dello stato